Un manifesto a beneficio di cittadini e turisti, laddove oggi c'è un cantiere, mentre prima era collocata la statua di Stradivari, gettonantissima per le foto e ideale per segnalare l'edificio in cui il maestro Liutaio abitò per oltre dieci anni. È l'iniziativa della Fondazione Casa Stradivari, preseduta da Antonio Gambardella con la direzione artistica del violinista Fabrizio Fonarx, ente che ad inizio 2022 ha presentato un ambizioso e affascinante progetto di rilancio della dimora del maestro. Situata al civico 57 di Corso Garibaldi a Cremona, il palazzo necessitava anzitutto di un intervento di rinforzo strutturale, ora quasi concluso. Si passera quindi all'allestimento degli spazi interni, coniugando il mantenimento dell'originale con le nuove esigenze. Intanto la Fondazione ha collocato un manifesto all'esterno, che già incuriosisce i passanti, come spiega Fonarx. In attesa di questa inaugurazione e del ritorno della statua di Stradivari, ho fatto mettere la foto della statua di Stradivari e invito tutti a farsi una fotografia in ricordo di questo momento di ristrutturazione e di rinascita di Casa Stradivari. L'articolato progetto coinvolge i diversi piani dello stabile e include un atelier, una sala espositiva, un laboratorio multimediale. L'andamento dei lavori fa presumere che sia confermata l'inaugurazione a metà dicembre, entro il 18, data in cui ricorre, l'anniversario di morte del liutaio cremonese. Certamente Fabrizio Fonarx suonerà il suo violino Stradivari di Angel ex madrileno 1720 e non mancheranno le sorprese. Devo dire che sono molto felice perché ricevo messaggi da tutto il mondo, da Taiwan, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Inghilterra, messaggi di entusiasmo, messaggi che non vedono l'ora di cominciare questa avventura tutti insieme. L'inaugurazione sempre prevista per la metà di dicembre sarà un evento veramente da non perdere.